Abbiamo segnato un punto in più di gara 1, ma ne abbiamo presi 25 in meno e in questa cosa sta la chiave di questa vittoria. Non dobbiamo dimenticarci che siamo 2-1 per Trieste, che questa partita ci ha consentito di rimanere in vita e di capire quello che dobbiamo fare e quello che possiamo fare per cercare di limitare una squadra forte come Trieste, della quale conoscendo la grande saggezza di Eugenio Dal Masson, conoscendo l'esperienza di giocatori come Peccile, come Cavaliero, come Daros, come Cittadini, l'esuberanza atletica dei due americani, questo Baldasso che sta giocando una serie straordinaria, l'errore più grande che potremmo commettere è quello di pensare che loro adesso pensino a gara 5. Loro pensano a vincere gara 4 per andare in finale a sfidare la Virtus e quindi il recupero delle energie che abbiamo speso, nervose e fisiche, sarà fondamentale perché come abbiamo visto delle tre partite giocate fino ad adesso nessuna è stata uguale all'altra.